due persone coinvolte. Rafforzare la sinergia tra Assemblea regionale e Corte dei Conti insieme nel rispetto della funzione di controllo della seconda debbono raccogliere la sfida per garantire le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese. Così il Presidente del Consiglio Mauro Laus apprende i lavori della tre giorni di studio dedicata alla giustizia, nuovo strumento di controllo e indirizzo della spesa pubblica. Il nostro Paese affronta da tempo una grave generale crisi che investe le istituzioni, i singoli ed anche la collettività. Crise anzitutto etica, ha osservato ancora Laus. Negli ultimi anni sembra si sia andata smarrendo infatti la consapevolezza del ruolo fondante in ogni Paese delle regole giuridiche, sociali ed anche etiche.